Buonasera, Gualtieri, sto tentando di buttare la mondezza nella tua città di Roma. Io abito a Casal Palocco, sono il sindaco di Terni. Sinceramente, Gualtieri, già qui avete fatto una strada che fa cagare. Domani ti manderò due o tre video, perché sinceramente penso che come collega tu ti stai facendo prendere per il culo da chi fa i lavori per te. Questa però è la raccolta della mondezza, come vedi indifferenziata, si chiama indifferenziata, quello è invece altra roba, plastica. Non passano, da quattro giorni ci siamo rotti, come dire, le palle, Gualtieri. Capisco che tu sei di sinistra, ma stai facendo fare una figura di merda a tutto il PD. Questa è la mondezza che ora butto. Dopo domani, Gualtieri, te la porto direttamente in comune. E te la porto direttamente in comune come sindaco di Terni. Perché vivo a Roma e mi sono rotto il cazzo. Ciao, Gualtieri. Grazie.